Treofan fumata nera, ancora nulla di fatto dopo l'incontro di ieri a Roma. Assente il vicepremiere e ministro del lavoro Luigi Di Maio, a suo posto Giorgio Sorial, vice capo del suo gabinetto. Presente Manfred Kaufman, il CEO della Gindal, proprietaria della Treofan, che si presenta senza un piano industriale. Ore di trattative senza trovare una soluzione. Dopodomani prossimo nuovo incontro a Roma. Il 24 invece il piano industriale che presenterà la Gindal. La sindaca Cecilia Francesi e il deputato PD Piero De Luca sono delusi e valutano un esposto all'antitrasta. Il segretario regionale Wiltec, Alessandro Antoniello. Le parti si sono riaggiornate a venerdì mattino al Ministero. Intanto domani, nello stabilimento di Terni, due ore di sciopero con presenza dei sindacati nazionali. Il presidio a Battipaglia continua. Il 24, presentazione del piano industriale Gindal, i sindacati hanno chiesto il riavvio immediato di Battipaglia. Il Ministero riconvoca venerdì il tavolo chiedendo a Gindal di dare tale risposta.